Everybody f***in' losin' No perché vuole prendere Torino Torino-Fiorentina Ragazzi gioca il porno attore 69 Maggiorini Non c'erano grandi partite questa settimana Quindi abbiamo detto vabbè Maggiorini Che giocatori Maggiorini La palla per l'immobile L'allungo immobile Neto para il pallone Quindi diciamo questa è la più equilibrata Pisarro Come al solito rientra 4 volte Pisarro L'ha sponato Nella realtà era già molto Ha pesato una trambata Quadrato Ora beh c'è quadrato Che palla No 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 Gol Che cazzo Giuseppe Rossi non ha toccato la palla Che portiere brutto Ma guardato Vogliamo parlare dell'apertura di quadrato Che cazzo di giocatore Quadrato Come gioca la pirentina Sbaglia Oh 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 Ecco la palla per l'immobile Immobile L'apertura per Maggiorini 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 Che cazzo è sempre lunga queste palle C'è Neto 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 Primo pallone primo gol Vai quadrato Ma come gioca la fiorentina Che Florenzia Vives Che Fiorentina Che dare Oh Fiorentina Pasquale Rossi Ancora Dentro ancora per Rossi Non va Bascia Maggiorini Maggiorini Lo serve a Cerci 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 Se ne va Cerci Ma che cazzo fai Ma dove va Cerci se ne era andato Il problema è che il pallone L'ha portato con lui E' fuori gioco E' una bella apertura se no Non è fuori gioco No Oh Rossi Oh Rossi Che sbaglio Che sentenza Ancora La palla per lui Per Maggiorini Maggiorini L'uomo che fa godere tutte le donne d'Italia Maggiorini 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 Mamma mia che schifo Ambala Ambalella E' il cattore Sei razzista No perché Non c'è niente razzista in questa battuta Quadrato Quadrato No Vuole rientrare quadrato Perde il pallone così quadrato Eh Pure che fanno i canzoni egiziani Oddio Marca Valera Oddio Dodaro Da non c'è posso atopo Aiutoacon Eh Molto Ciò C'è ma che portiere C'è ma che portiere Mario Padelli Tuacaksın Ari описании Tu colocaré Tu To Tu Madona Tu Secondo Tutto Tu Tu Si Gustavo Tu 2 2 Vап Mamma mia La palla per Maggiorini Almagni Il cross in mezzo Ur La palla in fallo Materale Scegli meglio Scegli maggiorini È diventato caddori dopo il caddori E ancora La palla per Vives Bascia di nuovo L'apertura per Vives E adesso non Vives più Vives Per immobile Ma che cazzo Eh ma è troppo fermo Fabio E la madonna Ma non saprei giudicare Fabio Porca Valero Non va Oh meno male E porca troia Ha parato un pallone Padelli Il Torino non c'è Oh palla per Pizarro 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 Ci prova da qui Oh 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 pizarro Ma che è Ma Pizarro non c'entra in caldo Fare semioli Tu ricordi semioli? Sì Oscar Delli L'apertura di esterno per Rossi Oh Eh sì Calcio Rossi Oh 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 Oddio Ma c'è Fabelli Ma vuoi parare un pallone? Siamo solo a un passo Dai quattro salti Padella Mamma mia Un pallone devi parare Adesso non avete visto il mio balletto Finisce il primo tempo 3 al primo E 3 al secondo Come si va a vedere se mi hanno espulso C'era scritto espulzione Sì Dalmian Dalmian Ciao Dalmian Benissimo Cerci Cerci Il pallone filtrato Per Meggiorini Oh No però mi sono po' rottercazzo Voglio giocare pure io Oh oh Il Torino Vuole fare un gol Almeno uno Eh sì perché non arriva a quattro salti Oh Gomez Sì sì c'è 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 Ricorda la merda? Vediamolo Ole Gomez E adesso sì è ufficiale Quattro salti in padella In padelli Adesso spunterà a Badantuono Ok Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che fai? Oddio Clic mi chiedi se la faccio con te Aham Come Copyright Ma basta un po' magari una mangiata? Sì sì Vabbè Ma lo chiedi subito Sì perché chiederei di andare Sì perché stiamo facendo il video Eh vabbè Salute a tutti Ciao Salute No sì Ma no ma dai Oh ballò No E' la rete Sono cinque Sono gol Che gol Che cazzo fai? Mia madre faceva gessi intanto Non si sa Grande Grande che Soprattutto mezzo campo E' più in angolo Per cazzo mi fai Almeno ho preso L'angolo Oddio Chi è? Basta Chi è? Immobile Immobile ragazzi Infatti manca è saltato Ha girato sulla testa Da firmo no? Sì Che cosa è Che esultanza è? Ma quanto sei mongoloide? Ma che stai a fare? Sì ma sei strategico Siamo alzettati Siamo alzettati Rossi Eh sbagliata però Giuseppino Rossi Eh però Piotta troppo Oh Oh eh T'ho fregato eh La metti in mezzo? Sì No Ma che fortiere è? Ma che cos'è? Mamma mia C'è No C'è Pelatore Guarda se non fosse stato per Padelli Pelatore Hai reveso tipo 6 a 1 Dai dobbiamo fare 4 gol in meno penso Almeno 7 su Mi devo vendicare Pisarro Soprima è fuori gioco Cazzo L'ho fatta a po' Ma come no? Ma dai Ma dai No vabbè Vabbè lo pia un po' per culo il portiere Però Tanto Tanto ormai la partita è quella che è insomma No no Sì C'è 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 È scandaloso comunque questo portiere C'è la poteva parare Guglielmo Rossi c'è Guarda No vedi lo devi far vedere 7 a 1 89esimo c'è tempo per fare l'ottavo Dai così pareggiamo i gol dell'altra settimana E ancora Maggiorini Ancora lui Finita qui Non c'è così 7 a 1 7 a 1 perché no 7 a 1 perché no Per il portiere mi merito pure 10 gol Perché c'è fa un po' morire Incredibile Ah ha fatto due Ah no quello è il rosso Pensavo che ha fatto due gol No Comunque Finisce qui E noi vi salutiamo Alla prossima Bella